Siamo tutti profondamente addolorati per quanto sta avvenendo in Ucraina, un paese devastato dalla violenza, dalla guerra e a pagare il prezzo più alto come al solito è la stremata popolazione civile, soprattutto donne e bambini, persone costrette ad abbandonare la propria terra, le proprie abitazioni in cerca di salvezza, molti di loro, la stragrande maggioranza, parliamo di milioni di persone, si sono riversate dentro i confini dell'Unione Europea e devo dire l'atteggiamento di Bruxelles è stato incommiabile nel senso che abbiamo spalancato le porte, c'è stata una mobilitazione delle istituzioni comunitarie, dei paesi membri, guardate quello che è successo in Italia, sono scesi in campo associazioni, gruppi, movimenti caritas diocesane, parrocchie e tutto questo ci fa onore, viene però spontaneo domandarsi come mai questo atteggiamento così benevolo nei confronti dei profughi dall'Ucraina, mentre invece nei confronti di coloro che provengono dalle periferie del mondo, dalle altre periferie del mondo, per esempio dall'Africa subsahariana, in questi anni c'è sempre stato un atteggiamento altezzoso all'insegna del giudizio, del pregiudizio, se non addirittura del respingimento. Qui sembra affermarsi davvero la logica dei due pesi, due misure. Come stanno le cose? Ora, le istituzioni, i politici, i nostri politici si difendono dicendo che in fondo i profughi che provengono dall'Ucraina sono rifugiati, mentre quelli che provengono dall'Africa sono migranti economici. Chi ha elaborato questa distinzione, che lasciatemelo dire, è molto ma molto manichea, è stato un certo Egon Kuntz, nel lontano 1973, che elaborò la cosiddetta push and pull theory. Di che cosa si trattava? Tenete presente che è stata elaborata durante la guerra fredda, quando il mondo era molto diverso da quello di oggi. Secondo Kuntz, se il migrante scappa dalla guerra o è perseguitato da un regime totalitario, può essere accolto, qualificandosi appunto come rifugiato. Se invece fugge da inedia e pandemie, in quanto nel suo paese non esistono le condizioni di sussistenza, non può partire e deve accettare inesorabilmente il suo infausto destino. In altre parole, se uno nasce in una baraccopoli alla periferia di Nairobi, come Corococcio, deve rimanere lì, perché è un migrante economico. Ora, capite bene che questo è un ragionamento che non regge. È ormai assodato che a parte i tradizionali scenari di guerra, e quando parlo dei tradizionali scenari di guerra, mi viene in mente il Medio Oriente, mi vengono in mente paesi dell'Africa subsahariana, mi viene in mente l'Ucraina. Ma intendo dire, a parte questi tradizionali scenari di guerra, non c'è mai una sola ragione che porta ad emigrare, ma un complesso di fattori. E la lista, lasciatemelo dire, è molto lunga. Per esempio persecuzioni politiche, persecuzioni religiose, carestie, esclusione sociale, violazione dei diritti umani, reti sociali che spingono verso il benessere. E poi non bisogna dimenticare che l'istituto dell'asilo, dell'asilo politico, soprattutto in Europa, ma non solo, è considerato un privilegio concesso dagli stati, non una condizione inerente all'individuo. Quindi, alla prova dei fatti, sono gli stati che decidono se darlo o no, in funzione di una serie di motivazioni che, a ben vedere, lasciatemelo dire, sono estremamente soggettive da parte dei rispettivi paesi di accoglienza. E dire che molti popoli del sud del mondo, come quelli africani, sono penalizzati oggi proprio dalla globalizzazione dei mercati, che, lasciatemelo dire, non è certo stata inventata dagli africani. Urge pertanto promuovere una cultura del destino comune, che rappresenta l'unico vero antidoto, deterrente contro quella che Papa Francesco definisce pertinentemente la globalizzazione dell'indifferenza fondata sulla cultura dello scarto. Ora, noi sappiamo che in questi anni i nostri politici spesso hanno utilizzato il tema delle migrazioni, della mobilità umana a fini elettorali. Cioè, questo argomento, come dire, è stato strumentalizzato e evidentissimo quello che è avvenuto nella recente campagna elettorale della signora Le Pen in Francia per le presidenziali. E quindi che cosa succede? Che viene strumentalizzato al punto tale che i ceti meno abbienti di questa o quella nazione vengono mobilitati contro i migranti, sono proprio i poveri ad essere maggiormente diffidenti, ostili nei confronti dei migranti che provengono dalle periferie del mondo. E qui mi viene in mente, come conclusione, quello che scrive è un saggista camerunese che vive nel nostro paese da diversi anni, si chiama Ivan Sagné. Egli ha giustamente affermato che quando i poveri si convincono che i propri problemi dipendono da chi sta peggio di loro, siamo di fronte al capolavoro delle classi dominanti. È il caso di dirlo che a orecchi per intendere, intenda. Egli ha giustamente affermato che a orecchi per intendere, intenda. Egli ha giustamente affermato che a orecchi per intendere, intenda.